Il gruppo UFO di Cremona, associazione che unisce ricercatori appassionati, ha organizzato un incontro per portare la testimonianza di Anis Tarzak, francese di origini turche. Durante l'evento al quale hanno partecipato più di 30 persone, si è discusso di fenomeni ufologici e di incontri ravvicinati. Il protagonista dell'incontro ha raccontato di essere in contatto con gli alieni sin da piccolo. Quando sono bambino, queste esperienze diretto con loro. Avevo dei problemi a livello fisico, però nel tempo sono guarito. E loro mi hanno dato anche l'occasione e la possibilità di conoscere una lingua come questa italiana, che io non conoscevo neanche. E come erano fatti? Allora, sono esseri comunque che, insomma, non è che sono tanto belli da vedere, no? E sono scuri, hanno degli occhi giganteschi. Questi occhi permettono in qualche maniera, senza bocca, senza naso, di entrare in comunicazione telepatica con noi. E sembra magari qualcosa di folle, però succedono tantissime cose attorno a noi. Nel 2022 in Lombardia sono stati segnalati 25 UFO. Molti li considerano oggetti non identificati. Altri invece credono che si tratti proprio di dischi volanti alieni. Secondo i dati del Centro Ufologico Nazionale, negli ultimi quattro anni, 95 UFO hanno attraversato i cegli lombardi. Due hanno sorvolato Cremona. Nell'estate del 2023 ci sarebbero state diverse segnalazioni dal territorio cremonese ancora da verificare ed accertare. Nonostante le testimonianze rimane sempre un po' di perplessità nel raccontare un fatto che sembra inverosimile. La sua esperienza è molto forte. All'epoca era un ragazzo, quindi l'ha visto insieme al padre e comunque intorno alle colonie padane, che è di Cremona e pratico. È un'esperienza molto intensa soprattutto perché è un contatto del terzo tipo, quindi qui si avvistano gli ufonauti, ovvero coloro che guidano questi oggetti volanti. Questa zona è interessata da avvistamenti che stanno un po' nella casistica nazionale. Di solito si tratta di avvistamenti ad alta quota, però ce ne sono. L'anno scorso è stato abbastanza pregno in questo senso. Vediamo come va quest'anno in questo senso. Grazie. Grazie.